Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Ferrino Finister 38 litri, la nuova versione dello zaino iconico di Ferrino e oltre a vedere nei pregi di fretti, tendo a precisare che avendo qua il vecchio Ferrino Finister faremo anche un confronto a vedere cosa è cambiato tra i due, ma iniziamo a parlare del nuovo. Iniziamo a parlare del nuovo Ferrino Finister 38 litri edizione 2022 dal suo peso. Lo zaino è stato aggiornato, utilizza dei materiali diversi, utilizza dei materiali riciclati e lo zaino adesso pesa più o meno 1,350 kg questa versione da 38 litri, ma in generale tutte le versioni del Ferrino Finister sono state aggiornate e grazie a questo nuovo materiale in generale i nuovi Ferrino Finister pesano un pochino meno. Iniziamo ad analizzarlo dallo schienale. Lo schienale è completamente nuovo, troviamo uno schienale a metà tra l'ergonomico e il telato, a metà perché come possiamo vedere in mezzo troviamo tutta la parte in tela che va a far traspirare la nostra schiena e a far uscire il sudore, mentre sulle parti laterali e sul fascione lombare troviamo invece tutta la parte ergonomica. È uno schienale che sia nella parte telata sia nella parte ergonomica mi ha soddisfatto, utilizzato in giornate calde, fa traspirare veramente molto bene, mi è piaciuto, è veramente molto traspirante e a questo punto continuiamo parlando del fascione lombare, anche questo molto comodo, come è fatto, come è costruito, anche lui tende a far traspirare e mi è piaciuto davvero tanto lo scarico del peso. Io ci ho portato tranquillamente 10 kg senza nessun problema, una volta ben settato questo zaino vi permette di portarne anche di più, penso che ci si arrivi anche attorno ai 12 kg senza avere grossi problemi. Naturalmente bisogna avere anche la muscolatura per riuscire a portarli, però lo scarico del peso aiuta. E sempre sul fascione lombare troviamo nella parte destra una comoda tasca abbastanza ampia, dove ci sta dentro smartphone, ma anche un'action camera, delle piccole salviettine, del cibo e via dicendo. Mentre sulla parte sinistra non c'è nulla, non troviamo nessuna taschina e questo lo considero un difetto perché quanto costava mettere una taschina in più? Io prevesco sempre averne due perché soprattutto sulla fascia lombare dove non sentiamo peso potremmo aggiungere qualcosa in più, ma in questo caso ci manca la taschina. Per quanto riguarda la chiusura sul davanti, questa è bella forte, bella dura, non si apre anche con 10 kg nello zaino, questa non mi ha dato problemi, anche smuovendosi sul terreno particolarmente roccioso non si è mai aperta. E in più, cosa che mi piace molto, posso andare a nascondere il restante del cordame che non utilizzo sulla fascia lombare all'interno, in questo caso qua dietro la taschina e di qua dentro questa fettuccia. Quindi non abbiamo roba che svolazze in avanti. Sempre per quanto riguarda la fascia lombare troviamo inoltre da questa parte la possibilità di andare a tirare una fettuccia per avvicinarci lo zaino e per aumentare lo scarico del peso. È un piccolo accorgimento, ma è quello che fa la differenza tra un ottimo scarico del peso e uno scarico del peso, sì, buono, ma non ottimale. Piccola cordina che io vi consiglio sempre di tirare, di settare bene, perché davvero fa la differenza. Continuando, sempre sulla parte anteriore, parliamo degli spallacci. Non hanno una sezione molto grossa, però sono molto ben imbottiti e non danno nessun fastidio. Sono belli traspiranti perché fatti dello stesso materiale con cui è fatta la fascia lombare e sullo spallaccio di destra troviamo la possibilità di andare a chiudere la parte alta con la clip solita. In sulla clip c'è anche il fischietto e questo sullo spallaccio di destra si muove in su e in giù su un binario che però non è molto lungo. Provatelo soprattutto prima di comprarlo. Sullo spallaccio sinistro invece troviamo l'altra parte della chiusura e poi una fettuccia dove andare a riporre i bastoncini da trekking perché inserendo la punta sulla parte qua dietro dello zaino e l'impugnatura da quest'altra parte noi possiamo andare a riporre velocemente i bastoncini da trekking per nel caso dovessimo affrontare qualche tratto esposto con catene eccetera potrei andare a riporli senza dover andare a rimetterli dietro. È una cosa che abbiamo sempre visto sugli zaini di osprei. Ferrino ha deciso di implementarla anche lei e come mi è piaciuta sugli zaini di osprei aggiungo che mi piace anche su questo Ferrino. E in conclusione sulla parte anteriore troviamo naturalmente in alto le fettucce per andare a avvicinarci lo zaino alla schiena. Ora che abbiamo finito di parlare della parte anteriore giriamo lo zaino e parliamo della parte posteriore iniziando dalle tasche da questa parte troviamo le clip per poter andare ad attaccare diminuire la grandezza dello zaino comprimerlo e ne troviamo due per lato una sopra e una sotto queste clip qua ci aiutano come dicevo a diminuire la grandezza dello zaino a comprimerlo ma anche a poter trasportare esternamente qualcosa un cavalletto un materassino possiamo trasportare diverso materiale. E sempre da questa parte non troviamo la classica retina per le borracce ma troviamo una tasca dove andare a riporle all'interno. Questa tasca non mi è piaciuta e vi spiego il perché. Qui dentro ci stanno bene solamente le borracce quelle alte e strette per intenderci delle borracce come questa qua dell'analghene che invece sono un pochino più basse e di circonferenza maggiore non ci stanno dentro. Allo stesso modo non mi è piaciuta perché non riusciamo a prenderci le borracce da soli quando camminiamo dobbiamo sempre chiedere a qualcuno o togliere lo zaino e poi se andiamo a riempire molto lo zaino all'interno si farà abbastanza fatica a inserire dentro e quindi ogni volta dovremo stare un po' a ravanare per riuscire a inserire la borraccia. E oltretutto qua sotto non ha nemmeno un piccolo foretto per far andare a scaricare acqua che perde o con un densa. Quindi queste tasche non mi sono piaciute io preferisco sempre la classica retina in basso anche perché a livello di peso la retina pesa meno rispetto a tutto questo materiale. Detto ciò continuiamo qua sotto troviamo la parte dove andare a riporre il puntale dei bastoncini come vi ho detto prima e qui troviamo sempre sulle fettucce per andare a comprimere lo zaino. La parte sopra un elastico dove andare a riporre la parte alta del bastoncino e sotto la classica fettuccia dove andare a richiuderlo. Qui possiamo decidere di mettere o entrambi i bastoncini da una parte oppure smezzarli fare uno e uno. Se mettiamo entrambi i bastoncini da una parte dall'altra parte possiamo ad esempio aggiungere una piccozza che ci sta. Continuando troviamo sulla parte posteriore una classica tasca con cerniera che noi possiamo andare ad inserirci dentro ad esempio una cartina. Qui ci sta del materiale abbastanza sottile e più riempiamo lo zaino meno roba ci sarà in questa tasca anche qua. E a livello di aperture troviamo qua sotto la possibilità di andare ad aprire lo zaino e togliere il saccopelo o qualsiasi indumento. E anche l'apertura superiore classica che vi farò vedere dopo. Qui troviamo inoltre questi passalacci questi anillini sia sopra che sotto in diversi punti dello zaino dove possiamo andare ad aggiungere dell'accordame dato in dotazione per andare a trasportare materiale aggiuntivo. Ad esempio ci stanno benissimo le ciaspole ci sta una tenda è lo stesso principio che Ferrino ha implementato sul modello agile che abbiamo già visto. Continuando da quest'altra parte laterale questa si ripete. Quindi qua troviamo la solita cerniera per la borraccia che in questo caso come vedete essendo lunga e stretta ci stava dentro abbastanza facilmente. E anche qua le fettucce per andare a chiuderlo la parte bassa naturalmente qui non troviamo sotto dove andare a appoggiare il puntale perché è solo dall'altra parte e quindi sono abbastanza identici diciamo sulla parte laterale. Per quanto riguarda la parte superiore invece come vi anticipavo troviamo la chiusura e questa è composta da due passalacci uno inferiore dove andare a richiudere praticamente se abbiamo lo zaino un pochino vuoto possiamo andare a comprimerlo e poi quello superiore invece classico che possiamo andare a chiudere lo zaino in tranquillità. Questa cosa mi piace soprattutto la possibilità di avere il secondo perché ci dà modo di poter utilizzare lo zaino anche se non è completamente pieno. Se compriamo un 38 come zaino un pochino tutto fare e dovessimo riempirlo fino a 28 30 litri potremmo utilizzarlo tranquillamente senza che la roba sballonzoli in giro. Altra cosa che mi è piaciuta e qui faccio davvero i miei complimenti a Ferrino è il fatto che qua dietro dietro il cappuccio abbia implementato tutta la segnaletica come reagire in caso dovessimo chiamare il soccorso. Qui c'è scritto come chiamare il soccorso nel caso avessimo un fischietto quindi fischiare ogni 10 secondi come mettersi nel caso dovesse arrivare gli soccorso e ci è spiegato anche tutta la tecnologia Recco perché sul cappuccio come potete vedere qui questo qua bianco troviamo il riflettore Recco. Sempre sul cappuccio visto che ci siamo vi spiego che abbiamo la tasca classica dove in questo momento io riposto una barretta e all'interno troviamo anche una ulteriore taschina dove andare a riporre una taschina chiusa da zip dove andare a riporre ad esempio il portafoglio documenti importanti che non vogliamo assolutamente perdere. Finiamo la descrizione di questo zaino parlando del comparto acqua. Oltre alle due tasche che abbiamo visto laterali per le borracce troviamo possibilità di andare a aggiungere all'interno la sacca idrica tipo camelback con la possibilità di far uscire il tubo sul davanti senza nessun problema e ce ne sta dentro anche uno da un litro e mezzo e troviamo in dotazione qua in basso anche il rain cover dato in dotazione insieme allo zaino che però attenzione se abbiamo all'esterno una tenda o qualche materiale non lo va a ricoprire. Il rain cover va a ricoprire lo zaino senza nulla posto all'esterno. Ultime due considerazioni su questo nuovo Feinister poi passiamo al confronto con quello vecchio. Analizziamo due aspetti la prima che non mi è piaciuta è l'ingombro questo zaino risulta essere abbastanza piccolo in altezza ma largo è abbastanza tozzo direi e non mi piace perché dal punto di vista del trekking magari non da tanti problemi se andiamo su sentieri particolarmente semplici ma se dovessimo affrontare canalini punti magari attrezzati eccetera avere uno zaino più grosso rispetto alla nostra schiena potrebbe essere un problema perché potremmo andare a strusciare su rocce alberi e via dicendo quindi avrei fatto un pochino più slanciato e meno largo. Secondo aspetto che invece questo mi è piaciuto la qualità dei materiali cuciture cerniere proprio la qualità in sé dello zaino io ho avuto tanti zaino di ferrino con questa qualità con questi materiali mi sono sempre trovato bene alla lunga si sono sempre dimostrati belli solidi e anche questo zaino penso che possa andare bene per tanti anni una volta che lo comprate. Veniamo ora al confronto del nuovo e il vecchio finister cosa è cambiato innanzitutto il peso il peso era uno dei grandi problemi del vecchio finister questo qua particolarmente la versione da 38 litri pesava un chilo e 7 utilizzando i nuovi materiali ferrino questo nuovo finister l'ha portato a pesare un chilo 350 quindi più o meno è andato a perdere sui 300 350 grammi e tutta la gamma è stata rinnovata più o meno tutta la gamma rispetto alla versione precedente è andata a perdere 300 grammi una cosa che ci tengo a precisare è che nel vecchio ferrino utilizzato si sentiva che il peso era concentrato in basso all'incirca in questa zona qua sull'anteriore da quest'altra parte nel nuovo il peso invece è ben bilanciato su tutto lo zaino tanto che tenuto in mano non si sentono particolari punti in cui lo zaino risulta essere più pesante e anche se pesa un chilo e tre che va bene un pochino più rispetto a magari ad altri zaini competitor questo questi grammi in più non si sentono per nulla altra cosa che è andata a cambiare sono gli schienali come potete vedere lo schienale è stato praticamente rifatto nuovi materiali nuova struttura sempre mettendo la parte a rete però aggiungendo in quello nuovo la parte laterale ergonomica mentre di qua era semplicemente a rete questo secondo me è molto più traspirante la versione nuova e tiene molto meglio il peso a livello di scarico del peso quindi diciamo che questa implementazione mi è piaciuta soprattutto per il fatto che essendo anche un pochino ricurvo si adatta meglio un pochino a tutte le parti tutti i vari tipi di schiena che può avere l'utente ultima cosa che è cambiata che piaciuta non piaciuta diciamo che siamo un po' lì sono le fettucce in questo qua troviamo delle fettucce un pochino più vecchie nella parte bassa dove andare a riporre il carico in quest'altra invece le fettucce come abbiamo visto vanno aggiunte successivamente diciamo che cambia poco perché su entrambi possiamo portare oggetti esterni però nel nuovo finistere le fettucce possiamo andare a toglierle e a riporle via in questo qua invece restano attaccate cosa però non mi è piaciuto che non mi ha convinto in questo nuovo restyling allora innanzitutto le borracce anche qua troviamo trovavamo le borracce che andavano inserite nella taschina laterale e qui è rimasta la stessa identica cosa quindi non mi piace non mi è piaciuto su quello nuovo non mi piaceva su quello vecchio ferrino penso che potesse fare decisamente meglio da questo punto di vista altra cosa che non mi è piaciuta particolare su questo modello nuovo è che qua sul posteriore c'è un sacco di spazio sprecato non trovando nessun tipo di apertura dello zaino a tutta lunghezza qui ci stava benissimo una tasca a rete a rete elastica perché è una tasca sull'anteriore la troviamo sul modello vecchio qui c'era qui c'era una tasca dove poter andare a riporre del materiale però avendo la parte laterale in tessuto in una rete praticamente lasciava un po' il tempo che trovava perché non poteva contenere tantissimo materiale soprattutto se lo zaino era pieno questa tipologia di tasca mi è sempre piaciuta l'ho sempre trovata utile han deciso purtroppo di non riportare da questa parte e non so se dire bene o male perché se l'avesse riportata allo stesso modo sarebbe stato un male ferrino probabilmente ha deciso proprio di eliminarla e togliersi il problema ora che abbiamo visto le differenze tra il nuovo e il vecchio finister fatemi sapere voi qua sotto nei commenti se questa nuova versione vi interessa se secondo voi ferrino ha fatto un buon restyling oppure poteva fare di meglio lasciatemi un commento qua sotto che ne discutiamo insieme quindi in generale mi è piaciuto questo finister ve lo consiglio sì secondo me è un ottimo zaino anche un buon rapporto qualità prezzo va bene ci sono alcune cose che come abbiamo visto non mi hanno convinto il restyling non mi ha soddisfatto appieno però penso che questo zaino possa andare bene per tantissime persone che fanno trekking per chi fa magari anche dei trekking da rifugio a rifugio soprattutto se prendiamo anche le versioni da 48 litri che dire io personalmente ve lo consiglio ha venduto tanto il vecchio finister penso che ne venderanno tanti anche di questi qua nuovi e io do il mio pollice positivo perché ve lo consiglio di acquistare e spero che vi trovate bene anche voi perciò ragazzi la speranza che sia stato esauriente esastivo anche per questo video io vi ringrazio per l'ho guardato e ci vediamo al prossimo ciao ciao